Parole d'ordine, entusiasmo e soprattutto certezze. Il Nardone ha diverse, la determinazione della società, il calore dei suoi tifosi e quindi la grande voglia di mettersi in discussione da parte di calciatori ed allenatore. I giovani per individuare magari un trampolino di lancio, gli esperti per lasciare un segno non banale in questa piazza, Danucci invece per far decolare da subito la sua carriera di allenatore. Gli esempi poi diventati celebri da queste parti non mancano. Mimorenna è il più importante senza dubbio, ma anche l'ultimo esempio di primo maragliulo non può essere certamente da sottovalutare. L'ambiente si è ricompattato dopo qualche malumore di troppo, l'ospicio è ora quello di vivere un futuro più sereno. Un ultimo ostacolo fondamentale in tal senso è quello del Consiglio federale in programma il 31 agosto. Qui è prevista, salvo sorprese, la riammissione del Toro in Serie D, uno scenario che in ambito regionale spalancherebbe a club come Grottagli e Fesca il ripescaccio, rispettivamente in eccellenza e promozione. Il calcio dilettantistico di casa nostra è col fiato sospeso e soprattutto fiducioso. La volontà è quella di ripartire più forti di prima.